Le detrazioni fiscali decisamente sono state il salvagente dell'Italia perché hanno fermato, hanno frenato l'emorragia che c'è stata nel comparto edilizio dopo la crisi del 2008, quindi abbiamo già tutte le serie storiche dei dati che ci confermano la bontà di questo strumento, che però veniva prorogato ogni anno di un anno, quindi sempre con il contagocce, senza dare una visibilità e quindi anche una fiducia per sia le aziende che producono prodotti e servizi per il settore, sia per i cittadini che appunto vedendo un anno solo sapevano che dovevano correre perché tu devi avere la fattura in mano per arrivare a detrazione fiscale e questo in tanti settori ritardava moltissimo lo sviluppo. Io ho fatto di questa battaglia l'anno scorso uno dei miei settori principali, ero riuscito a far approvare all'unanimità una mozione per stabilizzare tre anni questo strumento ed è quello che adesso porteremo in legge di bilancio. Stabilizzeremo fino al 2021 appunto le detrazioni fiscali, sia quelle semplici, ristrutturazioni semplici, sia quelle di efficientamento energetico, perché ricordiamolo possiamo dimezzare i consumi energetici facendo del buon efficientamento sulle abitazioni, sia le detrazioni per il sisma, naturalmente per irrobustire i nostri edifici che naturalmente è un'emergenza nazionale perché ogni cittadino sa che l'Italia purtroppo è a rischio sismico. Quindi non solo le stabilizziamo per tre anni dando un messaggio preciso, ma stiamo lavorando, non posso dare garanzia, ma stiamo lavorando per irrobustirle anche per renderle più funzionali. Quindi un ecoprestito, un prestito per aiutare l'avvio dei lavori e possibilmente anche quella che è una maggiore veicolazione, cedibilità del credito d'imposta. Era stato introdotto giustamente nella scorsa legislatura, una delle poche cose su cui siamo stati d'accordo con il precedente governo. Cercheremo di migliorarlo, quindi renderlo più flessibile e ampliare la platea di chi può scambiarsi questi crediti e quindi dare ancora maggior sviluppo.